Cari amiche e cari amici, la realtà è che tutto ciò che ci circonda è privo di scopo. La stessa esistenza non ha alcuno scopo, ma come ho detto tante volte non si può cominciare dalla fine. E allora dobbiamo procedere gradualmente. In questa gradualità dobbiamo comprendere che la meta della crescita spirituale è il ritorno alle origini, il ricongiungimento dei frammenti di coscienza che si sono separati. Si sono separati da che cosa? Dall'uno, dall'archè, dal principio primo, dall'unione originaria con Dio. Se ci pensiamo anche i miti biblici cominciano con la caduta dal giardino dell'Eden e il cerchio si chiude alla fine, con l'Apocalisse, con la Gerusalemme celeste, dopo tutta l'avventura biblica. Ecco il ricongiungimento. E dove il serpente tentava la donna nel paradiso terrestre, nell'Apocalisse la donna, Maria, la donna dalle dodici stelle schiaccerà la testa del serpente e il ciclo si conchiude. Questo ricongiungimento è la meta della crescita spirituale. Dunque è importante procedere gradualmente. Ed è importante sapere che seguire un cammino spirituale non vuol dire solo cercare esperienze di unione. Ho accennato nei vicini precedenti all'ombra. Il percorso implica imparare a riconoscere tutta questa frammentazione, dunque a tutti i frammenti negativi di noi stessi, che si sono separati da questa coscienza unitaria. E per fare questo dobbiamo diventare consapevoli dei nostri difetti, consapevoli dei nostri limiti, cominciare a identificare la nostra ombra, per superare poi le frammentazioni, integrare ciò che abbiamo definito negativo e che abbiamo rimosso, rigettandolo nell'ombra. E questa consapevolezza si acquisisce attraverso la pratica, dove un poco a poco si ripercorre al cammino a ritroso, si chiude il cerchio, si chiude il cerchio. Dall'unità originaria è come l'Eden, si è arrivati alla frammentazione e bisogna recuperare questa unità originaria. Una volta recuperata l'unità originaria si scopre che non c'è alcuna meta, che non c'è alcun senso, non c'è alcun Dio. Ma questo è solo la fine, non si può partire dalla fine. Bisogna procedere per gradi. Tutte le nostre imperfezioni, tutte le nostre frammentazioni fanno parte di un gioco illusorio. Non sono altro che dei piccoli granelli di polvere che, potremmo utilizzare questa immagine, che galleggiano nell'unità dell'essere in realtà. Solo che dalla prospettiva dell'essere umano troppo umano, questi difetti ci appaiono come separazioni nette dall'unità originaria. Ed è per questo che attraverso la pratica dobbiamo reintegrare, uscire dall'illusione. Dobbiamo trasformare, attuare questo processo alchemico all'interno di noi stessi. E questo comprende affrontare l'ombra non per combatterla e respingerla, ma per integrarla, per accettarla. E dobbiamo identificare bene le nostre difficoltà e i nostri limiti proprio per poterli integrare perfettamente nella profondità del nostro essere. Ricordate la favola della bella e la bestia? La conoscono tutti quanti, no? come fa la bella a ridimere la bestia? Attraverso l'amore e l'accettazione. Quella favola in realtà è un grande simbolo, perché contiene la buona novella. E cos'è questa buona novella? È sapere che in realtà tutto quello che rigettiamo nell'ombra, tutto quello che riteniamo demoniaco e non vogliamo vedere e rimuoviamo, non arriva mai a tale punto di oscurità al punto da non poter essere trasformato dalla luce della coscienza. Quello che noi riteniamo essere negativo può essere accettato, ma dobbiamo imparare a amare noi stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso. Il punto di partenza siamo sempre noi stessi. Quando impariamo a amare noi stessi, impariamo il perdono. O meglio, saperci perdonare è saper amare noi stessi. E allora tutto ciò che è energia negativa, che sono blocchi, che sono rimozioni, che sono i vari frammenti che compongono l'ombra, possono essere recuperati, integrati nella coscienza. E poi, in un secondo momento, andando ancora più avanti, noi vedremo che queste energie negative che avevano creato dei blocchi non erano affatto negative. E quei blocchi erano delle nostre creazioni. Ed esattamente come quando ci si risveglia da un sogno, ci si rende conto che era un sogno. Quando ci si risveglia e la coscienza si risveglia, si rende conto che tutto questo gioco di luci, ombre, la costruzione dell'ombra, le rimozioni appartenevano a una realtà più vasta, una realtà luminosa e luminosa. Quella realtà che ci permette di integrare le cosiddette energie negative, ma che non sono negative in senso assoluto, per reintegrarle nella coscienza. E così queste energie che respingivamo, che ci frammentavano, si fondono con questa enorme energia che abbiamo sempre a nostra disposizione. E attenzione perché ogni difetto riconosciuto, ogni difesa smantellata, ogni dolore che ci afferriamo, che viene liberato, quindi ferite che vengono risanate. E tutto questo ci dona nuove potenti riserve di pensieri, di sentimenti, di emozioni, per indirizzare la nostra vita in direzioni nuove e positive. E al contrario ogni difesa a cui ci afferriamo, ogni dolore negato, intrappola le nostre energie vitali e limita la nostra conoscenza. Per questo ci vuole pratica, perché il lavoro che facciamo sui nostri difetti libera enormi quantità di energia positiva, perché nulla dentro di noi è realmente separato dalla nostra unità originale. Ecco la spiegazione di alcune affermazioni che ho fatte in questo video e che possono sembrare contraddittorie. Se dico che l'esistenza non ha scopo, perché subito dopo dico che c'è una meta da raggiungere? Perché parlo su diversi piani di coscienza. Su diversi piani di coscienza. È verissimo che dobbiamo riconoscere il negativo, integrarlo, che dobbiamo indirizzare la vita in senso positivo. È verissimo che lavorare sui difetti libera enormi quantità di energia positiva. Ma quando si comincia a percepire da risvegliati tutto questo, ci si rende conto che né luna né acqua, soltanto il vuoto nelle mie mani, non c'era nessuna energia negativa, nessun blocco, nulla di nulla. Tutto faceva parte di questo grande sogno che è il gioco divino. Però noi dobbiamo stare al gioco e dobbiamo rispettare tutti coloro che stanno nella caverna, dargli degli stimoli per uscire fuori. Ma ogni cosa ha il suo tempo. Un dato di fatto dal punto di vista oggettivo, dal punto di vista quotidiano, dal punto di vista dell'umano è troppo umano, è che stiamo distruggendo il nostro pianeta. Abbiamo inquinato tutta la Terra e abbiamo la facoltà di distruggere tutto. E tutto questo l'uomo lo può fare adesso. L'antidoto è uscire dalla prospettiva egoica. Tutti questi disastri sono frutto della prospettiva egoica, dell'accaparramento delle risorse, dell'energia. Quando invece si comincia a entrare nell'ottica del rispetto, nell'ottica dell'uno e ci si può entrare solamente sintonizzandosi in maniera diverso, cominciando a comprendere la falsità dei desideri legati all'ego. E allora comincia l'esigenza di vivere in pace. Ci si rende conto dell'assurdità del depredare il pianeta. Non possiamo più andare avanti in questo modo. La Terra sta scoppiando. Siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo. In questa globalizzazione stanno cadendo molte certezze, c'è molti moralismi, molti punti di riferimento. Tutto crolla. Tutto crolla. Una gigantesca trasformazione in campo religioso, economico, sociale, scientifico. Emergono sempre nuovi paradigmi che non si esauriscono mai, che vengono sostituiti da altrettanto nuovi paradigmi e i cambiamenti sono sempre più rapidi. E tutto questo spaventa. E tutto questo spaventa. Ma tutto questo non è negativo in assoluto. Fa parte anche questo del grande sogno, del grande gioco divino. E sta a noi dare il nostro contributo per reintegrare le parti, per cominciare a rispettare la Terra, rispettare il pianeta, rispettare gli altri popoli, per lavorare insieme. Non è un discorso buonista. Chi segue il mio canale sa che non sono affatto di tendenze buoniste. Però dobbiamo avere questa presa di coscienza. È la prima volta nella storia che possiamo distruggere tutto. E attenzione perché la crisi, dal punto di vista sempre di una coscienza non sviluppata, è qualcosa di deleterio, di terribile, dove la gente si suicida, dove ci si impoverisce. Ma dal punto di vista più elevato, le crisi non sono altro che il tentativo della natura di provocare cambiamenti. E questo anche nelle crisi della nostra vita. Quante volte ci sono crisi individuali e poi ci sono cambiamenti. Il Dharma agisce anche in questo modo. Quante bastonate del Dharma, che vengono riputate negative, interpretate come assurdo, ma perché è toccato proprio a me? Ma se si scava a fondo si vede che quella crisi individuale serve ad evolvere, a sviluppare una maggior forma di comprensione. E anche queste crisi collettive, frutto di una dimensione della modernità, dove il Dio Cazzi miei, il Dio dell'individualismo, è liberato in tutto il mondo ed agisce in pieno arbitrio. Ebbene sta a noi recuperare la dimensione originaria. Comprendere che questo tentativo della natura è un tentativo della natura per rimettere in ballo tutto, per rompere equilibri che ormai sono obsoleti, cristallizzati, non hanno senso da portare avanti. La crisi rompe tutto questo. E qual è l'antidoto? La tradizione e la meditazione. Sperimentare quei principi, principi eterni che dimorano dentro ciascuno di noi. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo